Cioè perlomeno questo è quello che google traduttore dice smettendo Ehm ciao Agli siamo tratti di un nuovissimo video su minecraft E cringe si Però oggi siamo in minecraft danese ABC E loco falde No secondo me non è così cattivo il danese Secondo me il danese è più tipo Eh tipo francese c'è un mix No non lo so secondo me è un po' più particolare Comunque obiettivo solito Dobbiamo trovare un oggetto di minecraft per ogni lettera d'alfabeto In danese e quest'oggi Abbiamo sempre 20 minuti a partire da ora E abbiamo anche un piccone particolare Perché ha Siktach quindi puoi usarlo quando vuoi Nel ultimo video hai imparato un po' di cose Eh si ho imparato un po' di cose Il cord Ah è partito il timer case e non ho visto Ah il giordo so cos'è Il giordo è un legno No È la terra giordo Ma io perché oh mio dio Come si Prendi un fiorino giallo per favore Ti prego leggimi sto fiore Tieni questo tu Dimmi se Oh Ma cos'è Ivid Oh vabbè ok Pieno di fiori gialli scusate Io qua non c'è un altro A posto Allora questa Ascolti tanto queste parole a me non le dici No a me non le dici queste parole Ma da quando siamo insieme scusa Facchel Vabbè Ovviamente non significa Cioè significa Torcia Torcia Sì vabbè Dopo la zucca Vabbè Allora Oh questa la conoscevo eh Questa parola la conoscevo te lo giuro Cos'è Cartofen Cartofen La conosci anche tu È famosa come parola Si dice spesso Me lo ricordo Me lo ricordo Di pupattata Cartofen Eh no quello è il pomodoro Carota allora Eh no Però ci sei quasi È più o meno di quel colore Questa c'è di arancione Zucca Eh pensa bene Eh mi hai scoperto Eh sei proprio un brosten Non c'è la zucca qua Eh ma sei un brosten tu Cos'è la cartofen Ma se ti senti Nella vita sei più stan O più brosten Tu sei corn o blomst Io corn Corn è la balla di fieno Se c'è un cerchio sulla lettera Come si legge E non puoi leggerla Se c'è devi eliminare l'item Devi proprio bruciarlo Mi dispiace Che cos'è Non te il solitarò Ma che lettera è Dai È il È il Non mi ricordo Ah Rame 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 No No ramen Rame Ah allora è la mucca Signora mucca Non urlare però mi hai fatto davvero tanta paura Allora io ho un problema Che il mio oggetto Inizia con A e Però attaccate Però posso considerarlo come A Sì va bene Se lo dici puoi farlo Se lo dici puoi farlo Eh no E io non te lo dico allora Non mi interessa Vado a cercarne un altro Perché io sono una persona che sa Ottimizzare le cose Senza aiutarle No Puoi farlo No 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 Te lo concedo No Io ti concedo questa cosa Scusa che c'è un dato A egg Ma loco Tu Tu lo usi il cool In che scopo Con quale scopo devi usare il cool Beh è molto utile su minecraft il cool Sì lo uso il cool Per fare cosa Per cuocere le cose Ah no anche io Anche io No perché No sì sì è una cosa No In realtà è Un bastone Oh questo mi piace No questo non mi serve Mannaggia ne ho già chiuso un sacco Però non so più cosa chiudere Questo è un big problema Che dovremmo trovare Un'altra Ok È un big problema Che dovremmo trovare Una risposta Queste cose qua Tipo hanno Interessanti È il ping Non è il cool Cosa Il bastone è il ping Il ping No io non sto Pinchando tanto Pinch Posso fare slash kill Cos'è cool Genopsta No è vero No scusami Genopsta Perché è una lingua Molto tranquilla Secondo me Ma la puoi smettere Di ripetere di ripetere Questo termine Per favore Voglio sapere cos'è Il cool in danese Ma chiedila a qualcuno Che sa il danese Ti sembra uno che sa il danese Allora sono un attimino confuso Io non ci sto capendo più niente Perché questa lingua è un po' Bella questa litra E' insultando la lingua E no Non è che la sto insultando Mi sta confondendo Perché è un po' strana Allora Questo qua per esempio No E questo è utile Cavolo Hai visto che oggi ho fatto le cose piccoline Ho fatto sia il portale Che l'altro portale piccolino E perché Mi sentivo in vena di Perché sì Lenton A me non serve lenton Dai ma no Ma perché devi fare questa cosa Adesso lo aggiusti Eh no C'è un cane Eh Vabbè Tu aggiusta quella cosa lì Io arrivo subito Perché qua c'è questo Hai rotto le cose In realtà erano già rotte Non sono stato io Basta dare la colpa sempre a me Per tutto ciò che accade nella tua vita Eh Non lo so Ma assumersi le proprie responsabilità A questo ragazzo Allora Questa qua Così Io non troppo niente Perché c'è la keep inventory Quindi puoi anche evitare di perdere tempo Molto gentilmente Grazie ciao Io l'n Mi sa che ce l'ho già Non è vero Non ce l'ho Bene Quella lì Allora è molto ez Neanche che ci penso Fammi colpire da sta pallina Benissimo Ma è perfetta Se mi finisce l'evitation Muoio Se mi finisce l'evitation Sono morto Lo sai Guarda che tanto Non ci arrivo palese Non ci arrivo palese Oh Letterforte block Mi ha detto dalla regia Che sei morto È stato molto triste Perché ce l'ho arrivato Ma sono Va bene Basta È scarso No Quello no Visca Langerind Grazie Visca Tusca Topolino Questo rosso come si chiama Sto morendo Oh nether Ok Allora Fatemi pensare In realtà Se tu pensi Gli alligatori Stanno nella palude Il coccodrillo come fa Eh no È dove sono gli alligatori Dove sono gli alligatori Ma porca miseria Cosa stai facendo Stai ruspando la palude Per cercare gli animali Dove sono gli alligatori Dove sono gli alligatori Sì era Ciò che Che intendevo In fondo Allora Siccome sono una Cacca Che mi scappa la cacca Mi scappa la cacca Mi scappa No mi scappa Mi scappa Mi scappa Mi scappa la cacca E praticamente Penso che Siccome Tu Non Cioè Non guardi I miei video Penso che 2 più 2 Faccia 4 Giusto Aspetta Il tuo trucco Dell'altra volta Qual è Il ricettario Il ricettario Che so Medico Ma Nico Tu non hai messo Il piter bastione Fortezza Ti sei dimenticato Te li vai a cercare da solo Non avevo voglia Di darteli No Se lo fai No Ti segnalo No ti giuro Qual è il report player Sarà questo tipo Ok lo colochis Ma tu me l'hai detto No 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 Non puoi eh Non puoi Oh bello questo Mi piace Lo voglio prendere Bene Allora il problema Che ho riscontrato In realtà È ben più Pericoloso Perché non so Come risolverlo Essendo che La c La c La c è una bella lettera Secondo me Dovresti andare a prendere Tipo una nuvola Una nuvola Sì Le nuvola iniziano con c Clouds Eh ma non è Non in danese No no E hanno fatto una collaborazione Hanno fuso un po' di lettere Eh interessante Tipo quelle su Fortnite Che ogni tanto fanno le cose così Hanno fuso le lettere Ti consiglio di andarlo a verificare Perché Eh Sì Perché sì Devo fare questa cosa invece Mi serve di nuovo il cool Dai Cos'è il cool Eh il cool Per esempio quando dice Quanto sei cool Cioè inteso Cioè inteso come figo no Sì 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 Certo certo Non volevo intendere altro Cioè quanto sei figo intendo Cioè non tu ovviamente Rivolto a te no Perché Oh grazie Nico Gentilissimo No c'è proprio un C'è un Come si dice Un misunderstanding E non c'è nessuna parola Che mi aiuta qua Facciamo uno scambio Io dico una lettera E tu dici una lettera Va bene affare fatto Vai Dimmi la C Non c'è la Ma mica avevi qualcosa di bello Non c'è più Dimmi la I E non c'è neanche lei La Q E neanche lei c'è La U E non c'è La W E non c'è neanche lei La X No no Y E non c'è neanche Hai schifo Vabbè ma ascolta E perché insomma 2 più 2 fa 4 Allora devo uccidermi Ad andare nel nether subito Perché mi serve La lettera che tu hai In più di me E ho capito già Cosa hai preso Perché Perché sì Immagino che la Q È il quarzo Vero No Non è quarzo E che cos'è la tua Q Allora Eh sapessi 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 Allora vediamo se ora stai mentendo O se sei una persona realistica Oh Sei una persona realistica Inizia davvero con la N Però se facessi così Eh no Questa cosa non va bene però Questa cosa non va bene per niente Dai ma con la Q Cosa cavolo hai trovato La Q Con la Q Eh la Q Non ho trovato io la Q Io giuro la Q E allora che lettera è in più di me Scusami Cioè non ho capito Io no Che lettera è in più di me Lei non ce l'hai Lei non ce l'hai La Q non ce l'hai La Q non ce l'hai La c'ho trovata Cosa hai trovato Dove l'hai trovato Ti dice anche in inglese così Ti dico solo questo Ok Ti dice anche in inglese Calderone Non è quello Ma non Crossata Ho trovato 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 È incredibile Sta cosa Sì ma tu comunque Secondo me La U è facilissima La trovi ovunque È Luganda O Lugola No è un È Luca Si pianta Si pianta Si si pianta la U È un uccello Tu pianti gli uccelli No Devo chiamare WF No Dai però è giusto È il sapling Ma non è vero Quanto scommetti Ok se Vuoi scommettere soldi Sì ma Ok mancano 5 minuti Vuoi scommettere soldi Non voglio scommettere soldi Mi agito abbastanza Non voglio un bel scatto No così Ci voglio Se ne davo di meno Non mi interessa Mi serve un sapling Ma come faccio a farlo d'orpa Sapling È vero Bravo È detto la verità Non sei uno schifezzo A questo ti aiuto Come ti sei permesso a dire ciò Allora facciamo un piccolo check K L M N O P Mi serve un sacco di roba Queste tre straniere Perché non posso prendere il puff Con se il caccia Perché non si può raccogliere il puff Ma dove vivi Ma cosa giochi tu nella tua vita Scusami Non giochi a Minecraft Devo cercare un bioma particolare Oppure tipo un dungeon Qualcosa del genere Da questa parte Ci stiamo entrambi in un posto particolare Cosa intendi con particolare O tipo un Asian City O una Boh qualcosa del genere Io mi tipo un Asian City Dimension Io mi tipo un Asian City Vengo con te allora I miei calcoli dal calcolomane Mi hanno detto che qua sotto C'è una Un Asian City Cioè non ne so Oh C'è davvero un Asian City Ametista Ce l'ho Questo Ce l'ho Questo Ce l'ho Questo Ce l'ho Tutto Ma non mi serve niente Di quello che c'è qua dentro Si chiamano tutti Skull Ma porca miseria Ma perché abbiamo scelto questo bioma Ma perché abbiamo scelto questo bioma Tra tutti quelli che c'erano belli Dico è tutto Skull Eh si chiama Warden Ah Eh mi sa che è nato il Warden Mi sa che Mi sa che è nato il Warden eh Se vuoi vai dal Warden Io non lo picchio Mi sa Loco c'è Warden Sinceramente io sto bene così Ne sono nati due di Loco Di Warden Ma hanno esponato un'altra ancora Ma che abitatrice Vabbè ammazza mi basta Sono stanco Uccidimi Warden Io sono fermo Non puoi vedermi Non mi voglio Uccidimi Sono fermo Mi chiami Mi ha one shot Allora Eh Niente Che sei matto Devo perdere sempre per un oggetto solo Se vuoi No A meno Hai 30 secondi Non mi devi parlare In 30 secondi Ora basta Questo è troppo Cioè io dico Quello che cosa cavolo E la calcita Non lo so neanche in italiano Quello che c'è D'ametista Quello bianco D'ametista Ma porca miseria Ma adesso io ne trovo uno No Terracotta no Questo con l no E se facessi così Magari No E allora Dai ne trovo uno Ora eh 10 No 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mi sa che non sai Allora Ci siamo Lo finito allora due volte Comunque ci siamo Così sono gli oggetti Ho notato subito una cosa Questo signor Locolokis La no tu mi hai detto che andava bene No Tu mi hai detto che andava bene Tu hai detto di no È una A Tu hai detto di no Io ti ho detto Allora non vale Quindi questo signor uovo Mi dispiace No Sì che vale Abbiamo detto che valeva C'è il video Vorrei un replay in questo momento Se possibile Però posso considerarlo come A Sì va bene Se l'hai detto farlo Se lo dici puoi farlo Eh no E io non te lo dico allora Non mi interessa Vado a cercarne un altro Perché io sono una persona che sa Ottimizzare le cose Allora puoi farlo No 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 Te lo concedo E quindi questo uovo E si è rotto No 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 Infame Infame Di conseguenza No 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 Vale stai giusto anche Di conseguenza Gli altri sembrano essere tutti giusti Adesso controlliamo velocemente Ma mi sembrano essere tutti giusti Vale No 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 ragazzi Chi tiene il conteggio Punto per Loco Perché Nico trova ogni singola scusa Ho vinto io Anche lo scorso video mi hanno detto Che non valeva la testa Che gli ho preso mia Stai attento perché Ma sì che vale Non c'è due Attenzione Attenzione Uno due tre A me ne mancano tre A Loco ne mancano tre Più questi qua sotto Quindi questo è un pareggio Essendo che Loco ha preso una cosa Che ha detto che non valeva Quindi di conseguenza Noi ci vediamo Domani è un buonissimo video Pareggio ci sta Ci piace Questo fa l'ho detto Buon Natale a tutti E felice Anno a nuovo Anzi aspetta Ecco forse dovevo dire così Sì E' stai attacciono E' stai attacciono